In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud. Perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia, nel network di data center tra i più avanzati d'Europa. Se per noi l'Italia è casa, per l'Italia noi siamo il cloud. Esplora l'universo Aruba Cloud. Grazie.